Avanziamo di nuovo di livello aumentando un po' tutto Forza fede un pochino di tempra un poco poco tipo due livelli arrivare a 90 ancora una la forza la fede Alla forza e vai ma saliamoli in parallelo Guarda che scudo figo che c'ha quella lì io direi siccome i due boss sono stati sconfitti anche se c'è ancora qualcosina da fare nella zona lì Direi di andare avanti nella prossima zona passando di qua se non mi ricordo male io lo so Che lo volevate rivedere voi state guardando questa serie di dark souls soltanto per quello e io che sono un uomo di buon cuore Ve lo mostro ma soltanto una volta Il mark in genio Va bene va bene vado via scusate scusa com'è che c'è gente che muore Nei corridoi dove non ci sono nemici dov'ha E vabbè baule Si Uh parma cresimi e cresimi e vabbè cremisi eccola qua fa cagare perfetto arrivederci premo la diga perché perché a un certo punto nei giochi Di ruolo fantasy devi sempre passare per la merda ogni volta devi sempre passare per le fogne Sporcarti tutti i vestiti nuovi che hai appena trovato Spadalado spezzata no grazie Dovrebbero fare lo sconto lavanderia c'è già ti pagano a malapena come soldato almeno lo sconto lavanderia del 50 per cento per esempio E benvenuti nella torre della fiamma di aide Una delle zone più carine secondo me da vedere carine Proprio belle secondo me ma che bello che è sono anche i nemici Leggermente più grossi di prima Colpiscilo prima di lui Ormai uccido i nemici in contemporanea Al mio colpo e cosa cosa sto dicendo Scendiamo il falò però basta però basta Stupida connessione Ok ho ripristinato la connessione Andiamo avanti a conoscere tutti i nemici che hanno un'arma che il doppio di me L'arma è solo l'arma Polvere d'osso ok ok questa mi serviva La polvere d'osso serve per far diventare le fiaschette da normali a più uno E man mano che usi la polvere d'osso bruciando la nefa lo fa più uno più due più tre più quattro eccetera eccetera Non cadiamo eh non cadiamo No no tu puoi Se vuoi cadere tu per me va bene Magia Tiriamo la leva Da laggiù viene fuori un altro pezzo dell'arena E vi posso E vi lascio immaginare cosa ci potrebbe mai essere in quell'arena lì Esattamente Marshmallow per tutti No non ne avevo mai Conti siamo qua uno Dos Tres Tanto devo comunque passare in lavanderia quindi Bellissimo che gli altri vanno indietro mentre Lui che dovrebbe essere quello più forte Che con tre colpi lo butto giù Muore subito E loro che sono molto più potenti Però devo stare attento perché so tre Guardalo Eh proprio Cazzo niente A parte il fatto che avevo promesso di farlo tutto da umano e quindi Ovviamente Se ho fiaschette perché Se ho i figli Uh guarda che c'è qualcuno da evocare Ci facciamo tutta una zona insieme Dai Thunder Dave 17 Sperando che poi non si rompa le palle E molli tutto Eccolo Lo salutiamo Come si deve Ciao Thunder Dave Vuoi essere mio amico Eh Andiamo Andiamo Vieni Facciamo un po' di soldi Bam 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 Massacrume Uno Dos Eh ha più vita Ha più vita però Lascia fare che C'è un altro sembro di evocazione qui In tre No dai in tre magari troppo Oh lui può già tirare i fulmini Bellissimo Bellissimo Eh infatti adesso Au Ah 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 Arrivano arrivano Thunder arrivano Yes Bravissimo Va che recupero anche le mie anime Andiamo di qua Aspetta che c'è un oggetto Aspetta Ah già c'è la leva Aspetta che tiro la leva Che c'è l'altro anello Della Come si dice Della Della arena Oh grazie Gentilissimo Gentilissimo Andiamo di qua Andiamo di qua Lo so che vuoi andare di là Lo so perché Ma no Dopo Dopo Voglio prendere quel barile Ma perché dico sempre barile Uh guarda quanti segni di evocazione Lo vogliamo overkillare come si deve Eh vabbè ma io non so neanche più schivare ormai Grazie Grazie Se lo vogliamo overkillare C'è gente Ah no aspetta Corrami Corrami Ah Niente Aspetta Faccio io Faccio io Voila Allora Vado prima Dal baule C'è la trappola C'è gente morta qui Oh no no Ma come fa Ha fatto a morire quello lì Fiore verde E se vogliamo over Uber I strizzichillarlo Qua c'è No Qua c'è un bot Non voglio i bot Voglio un'altra persona Prune spruz No Non c'è Prune spruz Vabbè dai Facciamolo da soli Senza presentazione Con una panza Che ha dell'incredibile Bam 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 Guarda che lo massacra Di fulmini Ha Ha Maronna con quali scatti Però Ma l'hai tirato a me L'hai tirato Thunder Guarda che ti chiami Thunder Uh È proprio schivato Grazie Thunder Ti saluto Ciao amico Ti tocco tutto Ti tocco Ti tocco tutto Curami No È andato via prima Vabbè faccio io Grazie Di qua cosa c'era Sai che non mi ricordo Miracoli più avanti Giusto È vero Oh finalmente Final Emente Falò E ci curiamo anche Frega niente E andiamo dalla signorina Che prega Ecco l'issia di Lindelt Dove fanno il cioccolato Oggi sono on fire Con le battute Vado a suicidarmi subito E lei vende A parte La La campana da chierico E mi sembra anche un bel anello E infatti che aumenta la fede Vende miracoli Se ne hai uno per la tosse Mi faresti un piacere E io voglio Questo Ah mi serve 22 di fede Mi servono due livelli per usarlo Questo è ritorno Quello che ritorna al falò Ed è buonissimo quando ti perdi E non Blah 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 Allora io comprerei Il fulmine E poi Andiamo a Majula Usiamo tutto il possibile Immaginabile Per salire Di un po' di anime E io spero Di riuscire a salire Di due livelli Signorina Mi dica di sì Scusi se l'ho disturbata Che stava prendendo il sole Non so Uno E due Bene E guarda che mi rimane anche uno Per la forza Tiè Armonizza incantesimi Oh ma ne ho solo uno Cazzo Perché mi serve Ah è vero Devo aumentare anche gli slot Vabbè Per adesso usiamo questo La cura tanto è difficile Da usare in combattimento Aumentare l'attacco fisico È vero che avevo anche questo anello Madò Delle macchine da guerra Gastani Macchina da guerra Gastani Frinzi Nanananana Oh madonna la gola E adesso che ci siamo potenziati Direi di andare a fare I grandi culi A un altro boss Prima di andare avanti E cambiare zona Vediamo E adesso sono tre colpi Eh sì E tra l'altro infatti Potete notare che Il ponte Che c'è lì È già stato abbassato Perché? Perché ho registrato Con il microfono tappato Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Altrimenti ci passiamo le notti a battere uno per uno tutti quelli che ci sono per la strada Uh, vedo già un piccolo segno di evocazione Non so se farlo in compagnia o da solo questo boss qui Perché non è facile Uh, c'è un segno di evocazione, vediamo chi è Il signor Mr. Olympian No, senti Caviamocela da soli per adesso Questa è una sorpresa per tutti i fan del primo Dark Souls Vecchio ammazzadraghi È lui o non è lui? Ma certo che è lui Porca puttana A me piacerebbe colpirlo Bene A me piacerebbe colpirlo innanzitutto Oh Ho recuperato le anime perché prima sono entrato e sono morto Ma appunto non ho registrato e quindi sono scemo Caputtana mi Non ho abbastanza stamina No, non ce l'ho la stamina per battere quest'uomo Però attenzione Doppio schivaggio Però una te la prendi in faccia, bitch Eh, mi servirebbe tempo per bere però E non ce l'ho, non ce l'ho Oh Attenzione Il culo Il culo mi aiuta In the face Madonna Ma che cazzo Devo riuscire a farcela da solo Porca Eva Ce la fanno tutti Perché non ce la posso fare io Perché questa è la prima volta che l'ho battuto L'ho battuto in compagnia Ed è stato molto divertente però In compagnia Cioè Guarda quanta stamina mi toglie Ma dai Uh Eh Ottimo Eh sì Ottimo Wow Che roba Me la fai bere una Uh Non mi conviene stare lontano perché Lui fa degli attacchi Appunto Addirittura due attacchi ti ho fatto Addirittura due Dove va Dove stiamo andando Eh ma no Eh via così L'erroraccio mio è stato Oh 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 Via 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 E con questo Mi dai l'opportunità di colpirti Stronzo Sono piccolino eh Me ne frega niente Ti apro il culo Un colpo alla volta Vado via Vado via Eh ma colpito comunque Eh Non ho selezionato la campana Porca Adesso sì però Sbam Non c'ho paura Ma come mi guarda Guarda come mi guarda quello stronzo Ti bevo in faccia Oh no Non deconcentriamoci Eccolo lì Guarda Questa è la mia fine Yes Cazzo Oh Non me l'aspettavo Non me l'aspettavo Di riuscire a batterlo da solo Anello del leone Oh Aumenta la potenza Di contrattacchi Da fondo Quindi con la mazza Non serve a una mazza Ah 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 Ok qui Pronto Essere effimero Questo non è il luogo adatto A quelli come te Eh anzitutto Stai calmo Poi va bene Va bene Nella busta numero uno Abbiamo Globo dell'occhio blu Inclinato Per tre Grazie Completamente inutile Per ora Nella busta numero due Invece Maschera del cavaliere Saliamo di livelli Tipo soliti Due forza Tre fede E uno alla destrezza Se no veramente No anzi Alla tempra Un pelo di energia In più Non fa mai male Vale